ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video il nostro avversario ci ha giocato la bird cioè f4 e noi rispondiamo con questa mossa super particolare che cavallo h6 è una mossa che sorprendentemente ha senso però b3 è interessante devo dire b3 è davvero interessante ok forse adesso e5 può essere veramente veramente buona f per e5 d6 questo è un gambetto il gambetto boh com'è che si chiama from tipo una roba del genere in realtà non mi ricordo con l'aggiunta di cavallo h6 e b3 quindi penso che sia un spero che sia un vantaggio per me ma in realtà non ne sono certo g5 alfiere b2 ok qua gli uomini veri spingerebbero in g4 e sacrificherebbero la qualità sono abbastanza sicuro di questo ma sì dai ma ma che ce frega questa è la bandiera della repubblica domenicana no compaigallo madonna che bestia ok cavallo e5 ha rifiutato il mio sacrificio ok l'idea era quella che su alfiere per h8 avrei mangiato il cavallo e in questa posizione stavo minacciando donna h4 g3 addirittura donna per g3 h per g3 alfiere per g3 matto quindi dopo alfiere per h8 pedone mangia lui avrebbe dovuto rimangiare con il pedone e e dopo donna h4 re e2 quindi avrei ottenuto un compenso molto forte secondo me per la qualità perché avrebbe perso l'arrocco poi re n2 sta malissimo perché blocca proprio l'uscita dei pezzi e sarebbe stato niente male se sentite ululati è il mio bravissimo e bellissimo inquilino co che sono la chitarra e canta è diventato bravo in questa quarantena ok ovviamente non sto a spiegarvi cosa succede con cavallo per c6 perché su cavallo per c6 ovviamente donna h4 finisce istantaneamente la partita e come avevo detto prima g3 donna per g3 h per g3 alfiere per g3 matto very very cute ok ma giocherà una mossa brutta tipo d4 in realtà deve giocare una mossa brutta come d4 quindi dopo d4 io potrei fare ok il segreto è controllare a casa g3 perché donna h4 se c'è un pezzo di controllo in g3 può sempre sacrificarsi quindi cavallo f5 sembra abbastanza coerente con con la situazione forse in alcune varianti anche g3 è interessante come sacrificio vabbè d4 la deve fare cavallo f5 idea anche cavallo e3 e anche donna h4 però forse adesso può mangiare ma sì dai fidiamoci giochiamo cavallo f5 per ora ok il mio commento è che adesso donna h4 non è più matto perché può scappare qua e quindi teoricamente questo cavallo ora se lo può mangiare secondo me è parecchio rischioso se se lo mangia non vi sorprenderebbe se ci fosse una vittoria forzata comunque e la casa e3 è veramente veramente invitante anche perché se riuscisse a piazzare un cavallo stabile in e3 lui sarebbe veramente fregato penso di stare molto meglio in questa posizione in realtà perché è ancora distante da mettere al sicuro addirittura è a tre mosse dall'arrocco dovrebbe fare qualcosa di assurdo cavallo per g4 qua si inizia a sentire odore di di roba brutta che gli sta arrivando addosso ok per esempio inizierei con donna h4 cavallo f2 unica perché sennò avrei mangiato il cavallino and now and now sembra di stare troppo bene perché non ci sia niente magari anche la no dai impossibile inizio avere poco tempo anche lui ne ha poco quindi quindi va bene lo stesso parco cane niente devo fare questa anche se non è proprio la mia preferita ok su g3 probabilmente boh avevo perso tipo non lo so g3 ok ora ora sono abbastanza sicuro di aver posizione vincente anche se magari è solo un sogno orcocan no perdo tutto no ho perso un botto di roba ho perso un pezzo ok bisogna bisogna sfangarla ok mi ha subito restituito un po' di materiale per fortuna sennò sennò questa era brutta davvero ok comunque ho recuperato qualcosina alfiere di 3 si è liberato completamente adesso una valanga di pezzi cavallo alfiere per torre mi ha proprio fregato allora lì che facevo il fenomeno ok dai così così va bene perché mi sono mangiato quello ok adesso la mia torre è incastrata ok magari un giorno riuscirò a riportarla di là cavallo g5 difendo questo preparo torre h6 su questo scacco e poi torre h6 mi mangerà questo sicuro quindi torre per h4 ok dai adesso dovrei avere una posizione almeno pari secondo me ok inizio inizio a partire con pippo con kolarov sulla fascia sinistra cavallo scacco ovviamente su re a1 sarebbe seguita torre a2 matto quindi è stato costretto a venire lì e h2 e h2 penso che sia costretto a darmi il pezzo perfetto ora siamo corazzati e adesso parto sull'altra fascia diciamo ok un secondo ok un secondo la scampata spingo e spingo anche in a4 e anche a chi mi è arrivato fino in fondo ok vuole vuole fregarmi ma si è fregato da solo perché adesso con il re faccio un super doppio ah spangata anche questa grazie mille ok dobbiamo ancora arrivare a 2000 perché continuo a perdere partite humboldt current ok abbiamo giocato cavallo c3 siamo rientrati in una specie di roba e sto giro giocherò il mio fantastico blackmar di emmer ok questa è decisamente la mossa più forte la mossa che che mi deprime tendenzialmente quando quando me la giocano alfiere c4 ora abbiamo un pedone in meno per nulla ok ora sono in realtà un po' insospettito perché è proprio questo è il modo di giocare che hanno i computer cioè hanno questa cavallo c6 in particolare molto mi ricorda molto lo stile di un computer quindi non vorrei che fossimo nella stessa situazione dell'altra volta ok però in questo caso c'è donna b3 che dovrebbe essere a little bit fastidiosa per lui perché si attacco due pedoni penso che debba fare i 6 perché questo è decisamente più importante bisogna seriamente considerare cavallo a5 no non bisogna seriamente considerare cavallo a5 perché c'è sempre questa impresa quindi ok posso mi sono un po' tranquillizzato in realtà perché in genere a 2000 punti non si incontrano avversari che conoscono così bene queste aperture così di nicchia diciamo brasileiro ok ok in approfitto per ricordarvi che c'è il mio il mio corso sul sul canale di Matto Scacco il mio corso che si chiama Master Think e dateci un'occhiata se volete secondo me è piuttosto utile e adesso mi mangerò questo questo lì del pon in b7 ok torre b8 non ce l'ha perché c'è il cavallo in presa si è sposta il cavallo in a5 che era una mossa che mi turbava di più ci sarebbe alfiere b5 ok anche in questo caso lui è abbandonato ma perché perché sarebbe seguito alfiere b5 che è assolutamente devastante cavallo c6 ovviamente non si può fare perché perché seguirebbe un doppio adesso rei 7 donna per a8 per esempio e invece c6 alfiere per c6 ora a questo punto su donna d7 donna per d7 matto quindi cavallo per c6 unica donna per c6 a questo punto donna d7 non andrebbe bene per via di donna per a8 rei 7 era ancora giocabile però diciamo che ha un pedone in più il re il re in posizione altamente precaria e un vantaggio veramente molto molto grande quindi comprensibilmente il mio avversario è abbandonato spero che vi siano piaciute queste partite ci vediamo al prossimo e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao 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 ciao